Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Come sappiamo il 9 ottobre 2015 Apple ha riusciato il nuovissimo iPhone 6S che come potete vedere io possiedo già. Se siete persone che si sono informate sulle specifiche hardware e le specifiche di questo dispositivo avrete sicuramente sentito parlare del chip gate. In questo video capiremo che cosa è e che cosa comporta. Iniziamo nel dire che una delle tante novità di questo iPhone 6S è un nuovo chip, il nuovo chip A9. Questo chip si trova all'interno di un dispositivo Apple ma non è prodotto da Apple, infatti è prodotto da due diverse aziende, TSMC e Samsung. Sì, proprio lei, la più grande nemica di Apple. A questo punto ci possono sorgere due domande. Ci sono delle differenze tra due chip? Quale dei due ho io? Vi dico che per sapere quale chip avrete nel vostro dispositivo basterà aprire l'App Store e scaricare l'applicazione gratuita chiamata Lyrium. Aprendo l'applicazione nella parte bassa potremo vedere la scritta Model. A fianco alla scritta Model ci sarà una sorta di codice. Quest'ultimo corrisponde al tipo di chip che avrete nel vostro dispositivo. Se il codice sarà N71AP allora il vostro chip sarà un chip Samsung, come nel mio caso. Mentre invece se avrete il modello prodotto da TSMC il modello sarà N71MAP. E per adesso ci siamo, non c'è nessun problema. Ma ovviamente questa storia del chip gate si deve essere diffusa per un certo motivo. A quanto pare i dispositivi con chip TSMC sono leggermente più performanti rispetto a quelli Samsung. Come è stato detto da Apple stessa le differenze tra due chip sono minime, ma comunque da un certo punto di vista si possono notare. Perché i chip per esempio Samsung hanno una batteria inferiore di circa 50 minuti rispetto a quelli TSMC. E secondo fonti abbastanza affidabili i dispositivi con chip Samsung si surriscaldano molto più facilmente rispetto a quelli con chip TSMC. Però io da possessore di chip Samsung voglio dirvi una cosa. È davvero così terribile chip Samsung? La risposta è no. Il vostro iPhone 6S potrà tranquillamente fare tutto quello che avreste voluto fare con un normalissimo chip senza nemmeno sapere questa storia. Tutte le funzioni rivoluzionali di 6S ovviamente funzioneranno senza il minimo problema. Per cui per esempio il 3D touch funzionerà perfettamente. Tutto sarà normalissimo con l'unica differenza che appunto forse il vostro dispositivo parlando di chi ha appunto il chip Samsung si possa riscaldare più facilmente rispetto ad un altro tipo di iPhone ripetendolo ancora una volta con chip TSMC. E che la vostra batteria potrebbe risentirne un po' di più rimanendo comunque nell'utilizzo giornaliero senza alcun problema. Ragazzi io so che questo video era davvero brevissimo ma io sinceramente ci tenevo nel farlo, ci tenevo nel spiegarvi questa cosa dato che me la state chiedendo davvero in moltissimi. Mi state chiedendo che cosa è, quale chip ho io, adesso ve l'ho detto finalmente ho un chip Samsung. E anche perché mi piaceva fare chiarezza con le persone che magari non ne sapevano nulla di questo fenomeno appunto del chip gate. Se vi volete fare un'idea pratica per cui vedere effettivamente in modo concreto quanta batteria perde in più il chip Samsung rispetto a quello TSMC vi lascerò qui sotto nella descrizione il link di un video di uno youtuber inglese davvero grandissimo si chiama Jonathan Morrison che ha appunto fatto un video nel quale per esempio fa un timelapse con entrambi i dispositivi con i due chip diversi, guarda video con una certa durata per vedere appunto chi perde più batteria e come perde più batteria rispetto all'altro. Quindi ragazzi io spero che questo appunto breve video vi sia piaciuto, in tal caso vi invito a lasciare un bel mi piace, seguitemi su Instagram che abbiamo superato i mille seguaci, vi devo davvero ringraziare tutti, continuate a seguirmi su Instagram, seguitemi anche su Facebook e su Twitter, tutti i link saranno qui sotto nella descrizione. No ragazzi ci vediamo in un prossimo video, iscrivetevi al canale, ciao a tutti!